allora dopo ipocrate galeno con questo in questo video forse in questi due video parleremo di altri tre giganti della storia della medicina ovvero sia andrea vesaglio william harvey e giovanni battista morgani tra l'altro tutti e tre legati più o meno profondamente all'università di padova che fra 1500 e 1700 è stata è stato il centro di studi medici probabilmente più importante d'europa e in un certo senso del mondo e allora andrea vesaglio nasce a bruxelles nel 1514 il suo nome era andries vanvesele latinizzato in andreas vesaglius e nasce da una famiglia di medici il padre era un farmacista nonno e bisnonno erano medici e frequenta il collegium trilingue a lovano e quindi ha una formazione umanistica perché studia il latino il greco e l'ebraico lingue che in particolare il greco che gli servono per studiare gli autori antichi in particolare ipocrate galeno ma anche gli autori della scuola alessandrina di cui non abbiamo parlato ma insomma sappiate che fra ipocrate galeno ad alessandria e rigitto intorno al terzo secolo avanti cristo si è sviluppata un'importantissima scuola medica di cui caposcuola sono stati erofilo e verasistrato che è stata la prima e unica scuola dell'antichità nella quale si è fatta anatomia umana cioè si sono fatte autopsie di cadaveri umani comunque appunto galeno ha una formazione scusatemi vesalia una formazione umanistica poi studia a parigi rimane abbastanza dell'uso dell'insegnamento di a parigi se ne torna a lovano e infine nel 1536 va a padova dove si laurea e il giorno successivo alla sua o meglio si 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 prende il dottorato e il giorno successivo al conseguimento eh del eh del dottorato eh diventa docente di chirurgia e anatomia il 6 dicembre 1537 nel 1543 pubblica uno dei testi più importanti dell'intera storia della medicina cioè il de umani corporis fabbrica cioè la struttura del corpo umano lo dedica a carlo quinto eh di cui diventa medico personale al servizio degli asburgo e eh dopo l'abdicazione di carlo quinto segue il suo erede filippo secondo in spagna e durante questo periodo fa un pellegrinaggio a girusalemme al ritorno del quale muore appunto nel eh 1564 la sua rivoluzione ehm si è realizzata attraverso la pubblicazione di tre trattati fondamentali le tabule anatomiche sex pubblicate l'anno dopo la la l'inizio della sua carriera padovana il de umani corporis fabbrica in una prima edizione del 1543 in una seconda del 1555 e il de umani corporis fabbrica epitome che è una specie di riassunto a uso degli studenti perché la fabbrica era un libro poderoso e anche molto costoso e quindi diciamo non accessibile agli studenti e la rivoluzione di vesaglio si può riassumere in tre punti fondamentali rifonda l'insegnamento dell'anatomia rispetto al modello medievale rifonda la divulgazione dell'anatomia attraverso l'illustrazione è il padre dell'illustrazione anatomica e rifonda l'anatomia emancipandola dall'anatomia di galeno perché come vi dicevo galeno ha sezionato solo ehm cadaveri di eh sì corpi di animali non di eh esseri umani e quindi le strutture che galeno attribuiva all'uomo erano spesso presenti solo negli animali e non nell'uomo e Gale e Vesaglio se ne è reso conto ora il modello di insegnamento medievale prevedeva che il docente se ne stasse in una cattedra quindi ben lontano dal cadavere leggendo un libro di anatomia un libro di anatomia eh ispirato perlomeno ispirato alle eh alle eh teorie di galeno poi esisteva un assistente il lo stensor che indicava le parti del cadavere man mano descritte dal professore che veniva chiamato l'hector l'hector perché appunto leggeva il testo e infine il sector che era il più umile dei protagonisti della lezione anatomica perché era semplicemente un inserviente che si occupava di sezionare il cadavere Vesaglio critica pesantemente questo sistema che rivoluziona perché questa è perché Vesaglio incarna tutte e tre le figure del lector dello stensor e del sector questo è il famoso frontespizio magnifico eh eh questo libro è considerato anche un capolavoro dell'editoria rinascimentale applicato nel 1543 ricordo questo è il frontespizio e qui si vede Vesaglio questo appunto è Vesaglio al centro di questo teatro anatomico affollatissimo e eh vedete cosa fa Vesaglio? Vesaglio disseziona lui personalmente il corpo umano indica le parti che man mano sezione disseziona e legge cioè lui non legge il libro ma legge il libro della natura perché Vesaglio fonda la sua ricerca anatomica non sullo studio dei libri per quanto fosse molto esperto dell'anatomia di Galeno che appunto lui leggeva Galeno direttamente in greco ma legge il cadavere il libro della natura e e anche grazie a Vesaglio diciamo così l'anatomia nel corso del rinascimento diventa la regina delle scienze nel corso del medioevo la regina delle scienze era la teologia che era una scienza puramente speculativa mentre Vesaglio eh fa sì che l'anatomia diventi la regina delle scienze che era una scienza pratica perché bisognava utilizzare le mani e infatti per esempio nella prefazione della della fabbrica della del deumani corporis fabbrica Vesaglio si lamenta che nel corso del medioevo l'uso dell'opera della mano che è appunto lo strumento principale del medico veniva eh affidato a gente poco esperta delle discipline dell'arte medica mentre Vesaglio rivaluta appunto l'uso della mano poi la sua grande altra rivoluzione è l'illustrazione anatomica nel senso che i testi di anatomia prima di Vesaglio non avevano illustrazioni mentre Vesaglio sostiene che l'illustrazione in anatomia è importante tanto quanto l'illustrazione le gli schemi per esempio nella geometria e nelle scienze matematiche e nel deumani corporis fabbrica ci sono più di 200 tavole magnifiche per quanto possono essere magnifiche delle tavole anatomiche con ogni probabilità realizzate dal fiammingo Gian Stefan van Kalkar che lavorava presso la scuola di Tiziano a Venezia e vedete la meraviglia di queste tavole anatomiche. La fabbrica è una miriade di scoperte anatomiche per esempio la valvola mitrale il termine mitrale deriva appunto da Vesaglio che sosteneva che questa valvola assomiglia alla mitra di un vescovo cioè appunto il copricapo tipico di un vescovo e infine la rifondazione dell'anatomia emancipandola da quella di Galeno perché Vesaglio nella fabbrica dimostra circa 220 errori anatomici di Galeno. Interessante dire però che all'inizio della sua carriera anche Vesaglio fu galenico infatti le tabule anatomiche sex del 1538 pubblicate appunto all'inizio della sua carriera anatomica erano ancora galeniche. Ora comunque erano innovative vedete queste sono le tabule che sono delle a un formato piuttosto grande e sono basate esclusivamente sull'illustrazione, illustrazione con delle didascalie e quindi già questo diciamo così è innovativo perché sono testi di anatomia basati non tanto sulla descrizione verbale quanto sull'illustrazione. Però molte strutture illustrate appartengono ancora alla tradizione galenica vedete Vesaglio illustra la rete mirabile alla base del cervello che non esiste nell'uomo oppure la struttura delle carotidi dell'origine delle carotidi dall'arco aortico è una struttura tipica delle scimmie e non dell'uomo e quindi anche questa ricavata da galeno così come il cuore viene definito la fonte dell'origine del sistema arterioso secondo appunto la lezione galenica e la vena polmonare viene viene definita come quel vaso che porta aria dai polmoni al cuore anche questo assolutamente in linea con l'approccio galenico però appunto nel periodo trascorso a Padova cioè dal dal 1537 al 1543 quando Vesaglio pubblicò la fabbrica Vesaglio si discostò completamente dalla dall'anatomia galenica nega la rete mirabile per esempio all'interno del corpo umano cioè scusatemi alla base del cervello e nega i pori nel setto interventricolare o meglio nell'edizione del 1553 diciamo così è abbastanza dubbioso mentre nelle nella seconda edizione del 1555 nega completamente l'esistenza di questi pori e dice ovviamente non esistendo questi pori ci vuole una via alternativa di passaggio del sangue dalla parte destra alla parte sinistra del cuore però Vesaglio non è anche dice di essere ancora esitante a presentare un uso una via alternativa e quindi una diversa funzione del sistema cardiovascolare chi scoprirà la circolazione polmonare cioè appunto il passaggio del sangue da destra a sinistra del cuore attraverso i polmoni fu Matteo Realdo Colombo nel suo Derea anatomica del 1559 che fu successore di Vesaglio alla cattedra di chirurgia e anatomia presso l'università di Padova e quindi da questo sistema che è il sistema galenico in cui il sistema venoso e sistema arterioso sono completamente separati se non per i pori nel setto interventricolare si passa a questo sistema in cui si arterie e vene sono ancora separati però c'è questo collegamento tra parte destra e sinistra del cuore attraverso i polmoni e passiamo a William Harvey allora William Harvey William Harvey vedete qui un suo ritratto e questo è il suo stemma di famiglia questo è lo stemma di Hermes quindi non è lo stemma dei medici ma dei commercianti perché lo stemma dei medici è un bastone con un solo serpente attorcigliato che è lo stemma di Asclepio Esculapio giusto perché lo sappiate e questo stemma si trova presso il palazzo del Bo dell'università di Padova perché Harvey come vedremo fra un attimo è stato studente all'università di Padova e si è laureato all'università di Padova nel 1602 ed è stato il consigliere della corporazione inglese degli studenti dell'università di Padova cosa per la quale ha avuto la possibilità dopo la sua laurea di lasciare impresso il suo stemma familiare presso il palazzo del Bo che era la sede principale appunto dell'università. Allora nasce nel Kent presso una famiglia agiata per appunto attività commerciali anche lui ha avuto una formazione umanistica poi è stato studente a Padova dal 1599 al 1602 quando si laurea in filosofia e medicina dopodiché è tornato a Londra ha lavorato per la maggior parte della sua carriera presso il San Bartolo Muse Hospital che è ancora oggi uno dei principali medici scusatemi ospedali londinesi poi è stato archiatra del re inglese Giacomo I e poi del successore Carlo I e ha scritto due testi fondamentali il primo soprattutto cioè il Demoto Cordis poi vedremo il titolo il titolo esteso nel 1628 fondamentale perché è il testo in cui si descrive per la prima volta in occidente e nel mondo la circolazione sistemica del sangue perché come abbiamo visto in Galeno anche se non ve l'ho detto in modo esplicito non c'era il concetto di circolazione ma c'era il concetto secondo il quale il sangue venisse elaborato dal fegato e poi distribuito in tutto il corpo attraverso l'albero venoso consumato man mano nei tessuti dove giungeva e rimpiazzato da nuovo sangue prodotto appunto sempre dal fegato è interessante che Harvey abbia avuto l'idea della circolazione a partire da da un concetto cioè dal fatto che il moto circolare fosse il moto più perfetto nella natura e che quindi dovesse esistere anche all'interno del corpo umano e un altro elemento fondamentale è stata è stato la scoperta delle valvole delle vene fatta dal suo maestro girolamo fabbrici d'acqua pendente presso il teatro anatomico dell'università di padova fabbrici d'acqua pendente è stato uno dei grandi rappresentanti della tradizione anatomica dell'università di padova ebbene fabbrici ha scoperto che il sistema venoso contiene al suo interno delle valvole e Harvey ha capito che quelle valvole avevano una funzione anti reflusso perché nelle vene il sangue torna verso il cuore mentre all'epoca si pensava che nelle nelle vene il sangue andasse dal centro alla periferia diciamo così cioè dal fegato al cuore e poi a tutti i tessuti mentre Harvey scopre che invece il sangue nelle vene dalla periferia torna al centro cioè torna al cuore dove appunto viene ossigenato attraverso i polmoni ed ecco il suo famoso testo appunto pubblicato nel 1628 dicevamo de moto cordis in realtà il titolo esteso è esercitazio anatomica de moto cordis e sanguinis in animalibus vi sottolineo questo termine in animalibus cioè Harvey studia il cuore e il sistema cardiovascolare non solo nell'uomo ma in tutti gli animali per esempio nei pesci esiste un solo atrio e un solo ventricolo e quindi non due atri e due ventricoli e quindi era più facile pensare a un sistema circolatorio e proprio l'utilizzo dell'anatomia comparata al teriteram che ha permesso a Harvey di arrivare alla dimostrazione della circolazione sistemica del sangue e per diciamo così fare un omaggio al suo maestro Girolamo Fabrici d'Acqua Pendente che appunto nel 1603 pubblicava il Devenaru Mostiolis in cui divulgava la sua scoperta delle valvole delle vene vedete questa è l'unica illustrazione che si trova all'interno del Devenaru Mostiolis e l'unica illustrazione che si trova all'interno del Demoto Cordis riproduce quella del Devenaru Mostiolis però ovviamente secondo un approccio diverso cioè Fabrici questa illustrazione la legatura del braccio era funzionale a mostrare questi ingrossamenti delle vene che corrispondono alle valvole mentre la legatura del braccio e questo dito che blocca il flusso sanguigno dimostra che appunto il flusso del sangue venoso non va dal centro alla periferia ma va dalla periferia al centro quindi diciamo che è forse una delle prime immagini anatomo fisiologiche della storia perché è un'immagine scusate che dimostra non solo la struttura ma anche la funzione ovviamente sebbene in modo bidimensionale e nella sua esercitazione anatomica descrive correttamente il moto sincronizzato dei ventricoli e degli atri e che ventricoli e atri si contraggono alternativamente descrive la contrazione delle arterie e così via ed è stato anche il primo a capire che il cuore ha una sua propria intrinseca capacità contrattile e che questa capacità e che questa capacità contrattile nasce diciamo così si origina dall'atrio destro e effettivamente oggi sappiamo che è vero perché nell'atrio destro esiste il nodo seno atriale che è l'origine dell'impulso elettrico che è la sua una sorta di pacemaker endogeno interno al cuore stesso altro aspetto interessante è che Harvey dimostra la circolazione sanguigna anche attraverso un calcolo matematico cioè calcola la capacità del ventricolo sinistro di espellere sangue per unità di tempo dimostra che per ogni mezz'ora anche se il calcolo non era esatto ma insomma è significativo appunto l'approccio matematico perché dimostra che per ogni mezz'ora il ventricolo sinistro espelle circa 12 chili di sangue ebbene questo era impossibile sia perché il corpo umano non contiene 12 chili di sangue nella sua interezza sia perché se fosse vero il sistema calenico questo significherebbe che il fegato ogni mezz'ora dovrebbe essere in grado di produrre 12 chili di sangue e il corpo ogni mezz'ora dovrebbe essere in grado di consumare 12 chili di sangue poi continuamente rimpiazzati da ulteriori 12 chili e così via così via e quindi con arvi abbiamo la chiusura del cerchio e rasistato lasciatelo stare insomma questo è galeno questo è colombo di cui abbiamo accennato e questo è arvi in cui si ha finalmente la chiusura del cerchio cioè la dimostrazione della circolazione sistemica del sangue e giungiamo infine a giovanni battista morgani altro gigante della storia della medicina insieme agli altri agli altri grandi medici di cui abbiamo parlato questo è il ritratto che si trova nell'aula di medicina presso il palazzo del boho e vedete queste date 1711 1771 sono le date della sua carriera padovana cioè è stato professore di medicina vedremo fra un attimo per un professore di medicina teorica e poi di anatomia presso l'università di padova pensate per 60 anni perché morgani è nato nel 1682 ed è stato docente fino alla morte cioè fino al 1771 ed è ancora lui era di forlì vedremo anche questo fra un attimo però ancora oggi seppolto eh a padova presso la chiesa di san massimo in via san massimo che oggi tra l'altro è la cappella universitaria lui comunque era di forlì studia medicina presso l'università di bologna dove già da studente diventa assistente della cattedra di anatomia poi si laurea in medicina e filosofia a bologna e poco dopo la laurea pubblica gli adversaria anatomica anatomica di adverso questa è una sorta di traduzione italiana comunque avversaria anatomica prima cioè che significa appunti anatomici e sono un manifesto della nuova anatomia che si era sviluppata soprattutto nel secolo precedente cioè nel 1600 che è l'anatomia promulgata in particolare da un altro grande medico dell'epoca cioè marcello malpighi medico bolognese che comunque ha insegnato anche in varie altre eh città italiane pisa messina roma e così via e malpighi è il fondatore dell'anatomia microscopica cioè è stato il primo a utilizzare il microscopio per studiare eh la struttura intima degli organi e dei tessuti e anche questo trattato segue questo questo approccio e cioè descrive e studia le parti più piccole eh che compongono eh gli organi e i tessuti del corpo umano per esempio questi queste ma si potrebbero fare mille altri esempi sono i noduli delle valvole semilunari cioè della valvola aortica che sono degli spessimenti fibrosi che servono per la chiusura ermetica della valvola stessa perché eh è importante beh in tutte le valvole cardiache ovviamente è importante che non vi sia ehm rigurgito valvolare cioè che la valvola si chiuda perfettamente per evitare tutta una serie di problemi emodinamici eh anche molti dei quali anche piuttosto eh importanti. e dopo Bologna passa un certo periodo a Venezia e poi a Forlì e infine come vi dicevo nel 1711 diventa docente di medicina teorica a Padova per poi passare nel 1715 ma di fatto nel 1716 perché inizia le lezioni nel 1716 alla cattedra di anatomia. Nel 1761 pubblica uno dei più grandi e dei più importanti testi nella storia della medicina a livello della fabbrica del corpo umano e a livello di Vesaglio e a livello del demotocordis di Harvey cioè il desedibus et causis morborum per anatomen indagatis sulle sedi e le cause delle malattie indagate attraverso l'anatomia e già il titolo dovrebbe farvi capire la grande rivoluzione che questo testo ha comportato rispetto all'approccio umorale che ancora era imperante all'epoca di Morgagni. Padova è disseminata di luoghi in cui Morgagni ha lavorato e di monumenti, busti, ritratti dedicati a Morgagni. Per esempio questo è il Palazzo del Bo dove è stato docente, questo è l'ospedale di San Francesco dove ha visitato i pazienti e questa è la facciata della sua casa in via San Massimo che ancora appunto c'è solo la facciata perché il resto è stato demolito però esiste ancora la facciata della sua casa. E presso il famoso teatro anatomico dell'Università di Padova che vi ricordo essere il primo teatro anatomico stabile della storia inaugurato nel 1595 c'è un busto all'ultimo piano del teatro c'è un busto dedicato a Morgagni e donato a Morgagni quando Morgagni era ancora in vita nel 1769 in cui viene definito anatomicorum totius europe principi, principe degli anatomisti europei perché già dagli avversari anatomica prima Morgagni fu celebrato come il più grande anatomista della sua generazione e possiamo tranquillamente dire che è stato uno dei più grandi anatomisti di tutti i tempi. D'accordo? E questa è la sua casa con questa bella targa molto sintetica ma significativa Gian Battista Morgagni fondata l'anatoma patologica qui moriva il 6 dicembre 1771 perché Morgagni è stato il padre dell'anatomia patologica e adesso vedremo in cosa consiste l'anatomia patologica e questa poco poco lontano dalla chiesa dalla casa di Morgagni e questa è la chiesa di San Massimo dove c'è ancora la tomba terranea di Giovanni Battista Morgagni. Durante il suo magistero presso la cateda di medicina teorica ha pubblicato il nova instituzionum medicarum idea che sostanzialmente è una proposta per un nuovo curriculum di studi medici in cui sostiene che il medico deve essere esperto in dialettica per esempio per il colloquio con i pazienti ma anche per trasmettere correttamente le proprie scoperte in matematica e filosofia perché il 1600 e il 1700 sono stati i secoli in cui la matematica e la geometria qui con filosofia si intende filosofia sperimentale la matematica e la geometria sono state introdotte in modo imponente in medicina si sosteneva cioè che il corpo fosse una macchina e che quindi fosse dovesse essere studiato attraverso appunto la matematica e la geometria dovesse essere anche esperto in diritto per questioni di medicina legale ma già in questo testo lui elabora il programma di ricerca che seguirà per tutta la sua carriera affermeremo poi che non è possibile prospettare la natura e le cause di nessuna malattia senza le rispettive dissezioni dei cadaveri d'accordo sempre cioè la lesione anatomica individuabile in sede autoptica diventa la sede e la causa delle malattie cioè dei sintomi clinici vedete che è qualcosa di completamente diverso rispetto alla prospettiva umorale cioè la prospettiva umorale sosteneva che le malattie fossero causate da uno squilibrio negli umori mentre morgani sostiene che i sintomi clinici e le malattie sono causate da una lesione negli organi e come vi dicevo nel 1715 16 passa la catena di anatomia durante la quale pubblica ulteriori adversari anatomica cioè appunto di anatomia pubblica 20 epistole anatomiche prima le pistole anatomiche due poi le pistole anatomiche due due dei viginti cioè 18 epistole anatomiche cioè lettere anatomiche e poi pubblica il decidibus et causis morborum e infine addirittura ancora vivente cura lui stesso la sua propria opera omnia viene definito appunto il principe degli anatomisti europei e vedete queste sono alcune tavole tratte dagli adversari anatomica questi per esempio sono i ventricoli laringei i ventricoli della laringe ancora oggi dei ventricoli di morgani di ogni tessuto lui individua anche le le ghiandole secondo appunto la prospettiva inaugurata dal suo maestro marcello malpighi e queste sono le epistole anatomiche e questo è il frontespizio della sua opera maggiore cioè il decidibus et causis corborum per anatomen indagatis in cui si definisce publicus primarius professos patavinus perché all'epoca ovviamente era un onore essere docente presso la famosa università di padova ebbene il decidibus è composto di quattro capitoli o scusate cinque capitoli ognuno dei quali dedicato a un settore corporeo il primo capitolo dalla test con un ordine dalla testa ai piedi che era già un ordine classico comunque già galeno lo utilizzava cioè prima le malattie del capo poi della testa poi le malattie del petto poi le malattie dell'addome poi le malattie universali cioè per esempio le malattie infettive che colpivano tutto il corpo sostanzialmente e l'ultimo libro consiste in casi aggiuntivi ai quattro libri precedenti e poi i libri sono suddivisi in paragrafi cioè in lettere anatomo mediche ogni lettera studia una data malattia attraverso l'osservazione anatomo clinica di diversi casi di quella stessa malattia e in tutto in questo in questa straordinaria opera sono descritti 700 casi anatomo clinici quindi ogni caso consiste nella storia clinica del paziente cioè i sintomi che ha avuto il decorso clinico e la morte il referto autottico cioè quello che si è osservato in sede autottica e poi in un tentativo di collegare le lesioni eventuali rivenute in sede autottica e i sintomi clinici osservati durante la vita del paziente quindi i capitoli hanno un ordine anatomico perché appunto sono ordinati secondo settori corporei e ogni libro ha un ordine clinico perché ogni libro tratta di malattie o sintomi clinici per esempio il libro primo che tratta delle malattie del capo tratta di per esempio apoplessia ictus delirio mania epilessia e così via cioè tutte malattie sintomi o sindromi che riguardano affezioni del del capo della testa dell'encefalo in particolare ovviamente scusatemi ovviamente e quindi il titolo sedi e cause delle malattie investigate con anatomia già spiega tutto già spiega l'approccio morganiano cioè la l'anatomia cioè la dissezione di cadaveri mostra le lesioni organiche che sono considerate le sedi e le cause delle malattie e a proposito di causa morgani suddivide suddivide le cause delle malattie in cause prossime e cause remote la causa prossima cioè quella immediatamente connessa ai sintomi clinici è appunto la lesione anatomica mentre la causa remota potremmo dire che è lo stile di vita del paziente o l'ambiente in cui vive che porta nel corso del tempo gradatamente più o meno velocemente alla formazione della lesione interna che è la causa prossima della malattia e poi per farvi capire come morgani abbia riformato la teoria degli umori dall'interno cioè lui non nega in modo deciso l'esistenza degli umori del corpo ma innanzitutto sostiene che non sono quattro cioè non sono sangue flemma bile nera e bile gialla ma sono tutti i fluidi biologici all'interno del corpo quindi anche il muco il catarro il sudore le lacrime il pus e così via e poi cosa dice se c'è una malattia causata da un eccesso di umore per esempio se c'è una malattia causata da un eccesso di catarro bene questo eccesso di catarro non è determinato da un qualche squilibrio generale ma è determinato dalla disfunzione di una ghiandola che di un gruppo di che producono appunto il catarro d'accordo quindi gli umori sono legati agli organi quindi a una disfunzione di ghiandole quindi a una una base strettamente strettamente organica quindi nel desedibus si collega l'anatomia cioè la dissezione dei cadaveri con la clinica cioè lo studio dei sintomi clinici del paziente che vanno a costituire quello che ancora oggi è chiamato il metodo anatomo clinico e importante per morgagni per ogni malattia non basta osservare un caso e di quel caso osservare la storia clinica e ovviamente aprire il cadavere del paziente una volta deceduto ma per ogni malattia come un po sosteneva la scuola ipocratica era necessario osservare tante storie cliniche e eseguire tante dissezioni anatomiche tante autopsie per vedere quali sono i sintomi e quali sono le lesioni principali per ogni malattia e quali sono i sintomi e le lesioni secondarie più rare per ogni malattia ecco e così abbiamo finito nella presentazione di questi tre straordinari personaggi grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.